Ciao, sono Alberto Spatola e sono candidato al Consiglio Comunale di Genova, con la lista Crivello Sindaco. Da sempre sono impegnato nel campo del centro-sinistra, così come in questa elezione, perché penso che Genova non si possa permettere una destra intollerante alla guida della città, che vuole ancora più chiuderla. Genova è aperta, ma Zini, Garibaldi e molti altri ci hanno posto e siamo sempre stati al centro della storia europea e mondiale. 25 anni fa abbiamo deciso di investire ancora di più sul turismo, il Porta Antico e l'Acquario ne sono un esempio, Adesso serve un nuovo progetto, un giovane porto, possiamo dire, spazi come un ostello della gioventù più centrale e poter aumentare i nostri sforzi sul turismo congressuale. Questo è un progetto che serve per valorizzare quelle persone e quelle associazioni che accolgono studenti e turisti stranieri qua a Genova, scoprire le nostre meraviglie, per cui anche piccole cose sono utili, anche rivedere il regolamento sulle visite di guidate per far conoscere la nostra città al meglio è importante. E questo sarà il mio impegno. Spero di averti al mio fianco. In ogni caso, l'11 giugno, buon voto. Grazie.